Promosso il Napoli, come sottolineato da Amsic, il Napoli è una squadra di cuore, di grinta, capace di lottare e di superare ogni ostacolo. Questa è in sintesi la telecronaca del match con il Genoa, nel quale i partenopei hanno sofferto, ma alla fine l'hanno spuntata. Bocciati Vincenzo De Luca e Luigi De Magistris, i sindaci di Salerno e Napoli, continuano a dare sfoggio di una molto poca sopportazione reciproca, tanto è che cercano in tutti i modi di non incontrarsi. Le luminarie salernitane inaugurate a San Gregorio Armeno hanno visto l'assenza di entrambe le fasce tricolori, paralizzate come erano dall'imbarazzo politico.